Oggi stiamo qua a fare una live con Domiziano Cristofaro, regista di Cinema Horror Indipendente. Domiziano è appunto la persona che un po' mi ha fatto conoscere il Cinema Horror Indipendente con i suoi film, molti dei suoi film ancora li devo recuperare perché sono veramente tanti. La prima domanda che ho fatto a Domiziano è il suo percorso scolastico, perché scusate è arrivato un ride, grazie mille per il ride Rasplay Records. La prima domanda che ho fatto è appunto il percorso scolastico, perché tu hai fatto, me lo puoi dire tu di nuovo così non sbaglio? L'Istituto d'Arte con indirizzo per l'arredo e il decoro della chiesa. Ok, ok, che è una cosa diciamo piuttosto insolita, no? Però mi dicevi appunto che l'hai fatto perché volevi fare gli effetti speciali. Sì, allora stiamo parlando di oltre 30 anni fa, non era come oggi dove le scuole di cinema o i workshop abbondano ogni weekend in ogni angolo del pianeta. All'epoca esisteva solo il centro sperimentale e per questo tipo di cose come gli effetti speciali eccetera non esistevano né scuole di trucco né altro. Dovevi entrare a far parte di qualche laboratorio artigianale, però stiamo parlando di un ragazzino che aveva 14 anni, quindi era abbastanza impossibile tutto. Quindi ho preso questo indirizzo di studio dove appunto si faceva pittura, scultura, modellazione plastica, calchi e tutto quello che è, perché mi serviva per appunto apprendere il tipo di lavoro che si andava a fare con gli effetti speciali, quindi modellazione, scultura, pittura eccetera eccetera. Quindi è stata una sorta di alternativa. Mi ricordo che c'era la scuola di Rambaldi forse, però forse è arrivata dopo. Questo non te lo so dire, no, Rambaldi già c'è, la scuola forse è arrivata molto dopo, però ecco ti ripeto, non sono posti dove una persona di 14 anni o di 18 anni senza esperienza può andare. Quindi diciamo che mi sono trovato una strada alternativa per sviluppare la manualità. Poi tra l'altro, prima di fare il regista, io ho iniziato poi a lavorare proprio come fettista. Infatti ho una domanda alla fine, però l'ho messa, proprio sui tuoi effetti speciali. Però ci arriviamo dopo. Intanto ti chiedo veramente scusa per questo pasticcio iniziale. Perdonami. Allora, già mi vengono altre domande rispetto a quella che era la mia idea, perché chiaramente io non ti conosco perfettamente, quindi il cinema, diciamo horror, è arrivato e in qualche maniera è stato questo ad avvicinarti all'arte. Cioè all'arte proprio intesa come l'arte che si studia, l'arte anche poi che arriverà teatrale, non lo so. Sì, allora calcolo appunto. Io non avevo un'intenzione né di fare il regista né di fare cinema sotto questo punto di vista. Mi piaceva scrivere e appunto avevo la passione di fare gli effetti speciali. I primi cortometraggi che ho fatto, infatti, li ho fatti non per fare il regista, ma perché mi servivano per mostrare gli effetti che facevo, quindi chiaramente facevo comunque tutto io. Però non era quello mio interesse, perché tra l'altro mi firmavo addirittura con uno pseudonimo per la regia, quindi non era proprio quello. Adesso fai il contrario. Adesso faccio il contrario, sì. Gli effetti mi firmo con un altro nome e i film li faccio io. Però praticamente iniziando a fare questo tipo di lavoro, che poi è stato il mio lavoro, io ho avuto la fortuna di lavorare con personaggi come Christophe Zanussi, che è il più grande esponente del cinema est-europeo, insomma era l'art director di Chieslowski, Romano Scavolini, per esempio. Quindi insomma ho fatto vari film con la Eagle Picture, quindi insomma il lavoro di effettista c'è stato. E ho proseguito quindi la scuola dell'istituto d'arte con l'Accademia di Belle Arti, dove ho preso un indirizzo di scenografia e regia, perché sempre per proseguire il discorso che al centro sperimentale non ci potevo accedere così facilmente. Questo sempre perché l'Accademia io l'ho iniziata quando avevo 18 anni. Quindi studiando teatro e scenografia mi sono appassionato poi al teatro. Io ho iniziato a lavorare poi in teatro come scenografo e costumista e come performer. Il più delle volte ho fatto tante cose perché mi interessava stare dentro le cose, e quindi mi sono sempre proposto, quando si creava un'occasione, per esempio io studiavo costume, però non avevo mai fatto il costumista prima, però quando una compagnia ho sentito che dicevano che stavano cercando il costumista, io mi sono proposto. E insomma diciamo che ho avuto sempre la fortuna di farcela. Ho fatto di tutto, la comparsa, il microfonista, il segretario di edizione, che è un lavoro difficilissimo per la televisione, sono riuscito a fare pure quello, non avendo proprio le basi per farlo, però mi sono fatto proprio aiutare, insomma, ad amici che facevano questo lavoro. Ma questo per la voglia di stare sul set e rubare con gli occhi tutto quello che era poi il lavoro. Quindi hai imparato tutti i mestieri intorno alla produzione, diciamo, di una messa in scena, e poi hai detto vabbè a sto punto, cioè, con one man band sei praticamente. Sì, ma in realtà no, a me piaceva stare sul set. Ci sono tantissimi attori che tutt'oggi, ma questa è una cosa che io come regista sento dire da oltre vent'anni, ah no, ma io la comparsa non la faccio, ah no, ma quel ruolo è troppo piccolo, io non lo faccio, ah ma lì ci sono poche battute, non lo faccio, e piuttosto faccio il cameriere. Bravo cretino, vai a fare il cameriere. Servono i camerieri, no, quindi... No, per carità, però sai che c'è, che innanzitutto per una... Allora, il cameriere per una serata ti pagano una media di 50 euro, una comparsata te la pagano 70-90, quindi facendo molto meno fatica di fare il cameriere se vogliamo, quindi innanzitutto guadagni di più facendo la comparsa, primo. Secondo, se sei un attore, se hai questa passione, tu fai di tutto per stare su un set, vai a spalare i calcinacci delle scena, vai a portare i caffè, allora non esiste il discorso io la comparsa non la faccio, piuttosto faccio il cameriere, no, vai a fare la comparsa, perché se stai sul set, conosci, impari, impari, credono, conosci altra gente che ti può chiamare per altre cose, quindi diciamoci che è sempre stata questa ottica, insomma, che io ho cercato di fare, vai vai. Interrompo un attimo, intanto per ringraziare la mia chat che si è sbracciata, per farmi sbracciata, mentre io ero concentratissimo per dirmi non hai l'audio, non hai l'audio, grazie a tutti e per il sostegno, grazie per essere qua, perché oggi si parla bene di cinema con una persona che ne capisce veramente, non come me. No, no, ma io sono contento, perché ci sono anche delle cose di cui parlo spesso con la mia chat, che vorrei anche capire con te, e il tuo cinema è un cinema che, non voglio fare ruffiano e dico che parlo dei tuoi film, però il cinema anche come il tuo, tu hai deciso a un certo punto di, adesso io non so bene come è nata la cosa, però di andare proprio in un cinema tra virgolette pericoloso, cioè giudicato male, insomma ci sono tanti temi. Voglio solo dire una roba prima che mi dimentichi, intanto grazie a tutti e benvenuti, se volete fare delle domande a Domiziano, mettete il messaggio in evidenza, usate i punti canale e mettete il messaggio in evidenza, così lo noto e se riesco gli porgo la domanda. Allora, io avevo appunto questa domanda sull'arte, perché appunto tu arrivi, cioè arrivi a fare i film horror, però parti dai film horror. È un po' come se, se, cioè, se si fosse chiuso un cerchio e poi in realtà parlando anche con te ci sono tante altre cose che vuoi fare, giustamente uno dopo un po' anche, però ne parliamo magari alla fine del futuro, delle cose che hai voglia di fare nel futuro. Mi sembra di capire che per come hai deciso di intraprendere la tua vita, tu hai la possibilità di fare tutto quello che ti pare, fondamentalmente, e questo è, questa è una cosa bella, perché, cioè, penso che le persone dovrebbero ispirarsi a questo atteggiamento, poi ognuno deve fare quello che vuole, però appunto non darsi troppi limiti, iniziare a usare il cervello per fare le cose come si vuole, senza stare dentro a delle rotaie che ti sono state messe lì e tutto funziona. Come l'avete? Guarda, ti faccio già sta domanda, come ti vedi rispetto proprio a quelli che sono i meccanismi del cinema e dell'arte e tu invece che, mi sembra, hai un altro tipo di percorso? Ma, come mi vedo, non lo so, nel senso che io comunque ho iniziato col lavoro a teatro, dove chiaramente non si parla di horror, ma parliamo di drammi, parliamo di commedie, dal Miles Gloriosus, di Plauto, alla Condanna di Kafka, a Pirandello, l'Uomo dal Fiore in Bocca, quindi parliamo di cose che non sono molto attinenti con quello che poi è il tipo di cinema che faccio, che però... Che sono servite però, no? Sì, nel mio tipo di cinema c'è una profonda costruzione dei personaggi e questo, e anche della messa in scena e questo chiaramente viene dal teatro. Però diciamo che, avendo lavorato anche in produzioni grandi, sia con la televisione che con il cinema, io poi me ne sono tirato fuori. Cioè, io non faccio cinema indipendente perché non posso fare il cinema ufficiale o perché aspiro ad andare nel cinema ufficiale. Io in realtà ho iniziato a lavorare nel cinema ufficiale e me ne sono tirato fuori perché semplicemente non è un ambiente che a me piace. E non è un ambiente che mi interessa. Diciamo, ci vuole molto pelo sullo stomaco che io onestamente non ho. Sì, c'è un po' questo cortocircuito nella comprensione di che cos'è il cinema indipendente. Cioè, in teoria, dimmi se sbaglio, dovrebbe essere un cinema libero di fare ciò che vuole. In realtà, sembra quasi che, perdonami, finisco subito, cioè, sembra quasi che sia il cinema del perché si parte da lì non posso fare altro nella speranza di, e mi viene da dire, aggiungo solo questo, che molti registi che appunto partono dall'indipendente o partono proprio dal nulla imitano il cinema mainstream e quindi sono già prigionieri di una mentalità. Ho detto bene, ho fatto bene il compito. Sì, diciamo che stai aprendo tante riflessioni che sono veramente troppe e complicate. Diciamo che intanto c'è una grandissima confusione fra il cinema amatoriale e il cinema indipendente. Il cinema amatoriale è quello che lo fanno gli amatori, ossia gruppetto di amici che, e non c'è niente di male in questo, non sto facendo una critica. Può anche avvenire qualcosa di buono o qualche cosa di... No, certo che sì, però appunto, per esempio, Nanni Moretti è partito anche supportando molto il cinema amatoriale, cioè fatto dagli amatori, proiettandolo nel suo cinema e queste persone poi hanno avuto anche produzioni, eccetera, eccetera. Però diciamo che con l'esplosione del digitale tutti sono arrivati a fare film. Quando ero più giovane io, il cortometraggio non lo potevi fare perché uno, non c'erano i telefonini che giravano in 4K, ma non c'erano proprio i telefonini che facevano foto. Partiamo da questo. Se volevi fare un cortometraggio o lo facevi in pellicola o dovevi leggere delle tecnologie analogiche, digitali, che comunque avevano costi. Quindi fare il cortometraggio un corto di pochi minuti ti arrivava a costare anche 5 mila, scusami, 5 milioni di lire, che non erano poche all'epoca. è come dire un cortometraggio oggi ti costa 2.500 euro che comunque non sarebbero pochi, ma in realtà un cortometraggio oggi lo puoi fare con 300 euro, con 200, perché si sono abbattuti i costi di tutto il resto. Mentre prima, ti ripeto, se giravi in pellicola, intanto la pellicola al metro ha un costo, poi la dovevi far stampare, andava montata con le moviole in determinati studi, andava fatto il sonoro, la fotografia era obbligatoria perché senza luci in pellicola non vedi un cavolo. Quindi, insomma, diciamo che è un altro appoggio. Comunque le parolacce sono ammesse. Sono ammesse, perfetto. Allora, quindi c'è un altro approccio, capisci, che adesso si è quasi dimenticato, ma fare un cortometraggio prima era una scelta. Oggi invece chi non ha un cavolo da fare si improvvisa, dice non c'ho tempo, anzi, cioè ho tempo, organizziamo con gli amici e facciamo un cortometraggio. Prima invece dovevi proprio pensarci 200 volte per farlo e soprattutto quando lo facevi era il tuo biglietto da visita. Perché facevi il corto? Perché non avevi soldi per fare un lungo? E con quel corto ti andavi a mostrare alle produzioni quello che potevi essere in grado di fare per cercare lavoro. Oggi invece fanno lunghi, robe così, senza fotografia, senza recita, che non si capisce qual è il senso di andare a parare. Quindi, se è per divertirsi non c'è niente di male, però, quando poi si atteggiano a registi indipendenti, produttori indipendenti e mi propone un prodotto che è scadente sotto tutti i punti di vista, perché lo stai facendo? Cioè, qual è il senso? Quindi, non certo per cercare lavoro, non certo per presentarti con un biglietto da visita positivo, no? Quindi, amatoriale è colui che ama, appassiona di una tematica e appunto realizza delle cose per il suo intrattenimento, intrattenimento degli altri, finalizzato a quello. Cinema indipendente è il cinema indipendente dall'industria del cinema. Quindi, è sempre cinema. È comunque un cinema professionale. È un cinema professionale. Ok, è questo il punto. Tra l'altro, molti fanno, leggo spesso su Facebook, gente che scrive a quelli del cinema indie che si credono che sono la guerra dei poveri. Vorrei ricordare a certe persone che, per esempio, Gaspar Noé è un regista indipendente. Non è un regista con le produzioni alle spalle. Lars von Trier è un regista indipendente. Non è il costo che fa il film indipendente. non è perché costa dieci euro, mille euro. Perché un film indipendente può costare cinque milioni di euro come ad esempio Lady and White di Frank La Loggia che è un film indipendente perché è fatto al di fuori dell'industria. Che è il, perdonami, dimmi se sbaglio, che è Scarlett Il Tril. Scarlett Il Tril. Scarlett Il Tril. Che ha avuto distribuzione internazionale che è uscito con Metro Goldwyn Mayer che adesso è di nuovo con, cioè, voglio dire, è un prodotto indipendente che esce con una major ma è alla base, è la differenza, sta nella base dell'intento del prodotto. Non è il costo. Quindi si fa una grandissima confusione fra amatoriale, povero e indipendente. E ripeto, io... Quindi un film potrebbe tranquillamente essere indipendente quindi fatto da professionisti ma povero perché non ha i fondi in un certo senso. Tutti i film d'autore che sono passati per esempio al Festival di Venezia grazie all'articolo 28. Per esempio... Spiegami perché sono ignorante, probabilmente anche qualcun altro in certo non lo sa. L'articolo 28 era un contributo statale che permetteva come una sorta di start-up statale film prodotti dallo Stato. Ci sono tantissimi film d'autore prodotti con l'articolo 28. Marco Bellocchio riceve finanziamenti ad esempio dell'articolo 28 anche. Riceveva. Sono film che quindi non devono rendere conto a un produttore Sì, diciamo che c'è sempre un rendimento a livello artistico intendo non devono rendere conto su come è montato il titolo la cosa c'è. No, sono film d'autore per cui appunto ti faccio un esempio Diavolo il corpo di Bellocchio è una produzione statale quindi è un film totalmente indipendente però fatto con i soldi dello Stato che ha fatto anche festival come Venezia e Cannes. Comunque ti ringrazio perché comunque sono contento che parliamo adesso poi cerchiamo di parlare anche dei tuoi film però ti ringrazio anche perché comunque io l'ho anticipato tu sei un grande conoscitore di cinema nonché persona che ha studiato vabbè sicuramente molto più di me e molto più di tanti altri e poi oltretutto sei dentro al mondo del cinema appunto sotto anche ricoprendo anche svariati ruoli quindi ti ringrazio anche per la parte didattica perché ci tenevo anche un po' a fare un contenuto che potesse anche essere istruttivo per chi segue il mio canale le mie cose bene bene sono contento anche che hai fatto questa quindi tu comunque hai iniziato a fare i tuoi film praticamente quello che voglio chiederti è come come è che hai deciso di partire subito con un genere come il cinema horror estremo o comunque un cinema horror così cupo così un po' inquietante per quello che è quello che si aspetta il pubblico appunto il pubblico del mainstream l'horror mi è sempre piaciuto da quando ero piccolo vedevo vedevo tanti film horror leggevo tanti libri a tematica horror quindi è un genere che mi è sempre piaciuto quindi chiaramente mi sento portato e vicino a questo tipo di cose ma più che altro perché appunto come ti ho detto io volevo fare effetti speciali quindi mi interessava mi interessavano quei tipi di film non l'horror psicologico ma mi interessava il tipo di horror dove appunto c'erano teste tagliate colpi squartati sgozzamenti fiumi di sangue perché è quello che io volevo fare quindi più ce n'era meglio è il debutto alla regia in realtà è un caso perché io comunque in quel periodo facevo l'attore perché ho iniziato appunto con il teatro come scenografo costumista però mi sono poi diciamo ritrovato tra virgolette anche a essere un attore un performer e all'inizio la mia passione insomma oltre a quella degli effetti era anche quella di scrivere e scrissi questo soggetto questa sceneggiatura che era House of Flash Mannequins che poi era stato il mio primo film che era una versione morbosa distorta dell'occhio che uccide di Michael Powell portata all'estremo sotto altri punti di vista io avevo solo scritto il film non avevo intenzione di fare il regista stavo cercando una produzione per farlo realizzare e in Italia per cinque anni mi hanno tutti chiuso le porte in faccia dicendo che torna a fare quello che sai fare perché scrivere non è per te tanto la sceneggiatura fa schifo e in più un film è così non te lo produrrà mai nessuno perché c'è troppo sangue c'è troppo nudo non c'è il lieto fine questa è la cosa che mi ha colpito di più non c'è il lieto fine perché invece bisogna dare un messaggio positivo nell'horror soprattutto bisogna avere il finale che la gente si ripensavo a Fulci ripensavo ma c'erano già tanti anche film molto famosi che non hanno il finale positivo quindi era proprio stiamo parlando io appunto venivo da quegli anni di visione dei film di Lenzi di Fulci dove non mi risulta morivano tutti alla fine quindi cercavo di capire perché il cinema avesse questa necessità di questa botta di positività il fatto sta che a me la sceneggiatura piaceva così incontro casualmente Giovanni Lombardo Radice famoso all'estero come John Morgan per chi non lo conoscesse è uno degli attori favoriti di Tarantino italiano nonché icona horror di film come Apocalypse Domani di Margheriti Paura nella città dei morti viventi di Fulci La setta o la chiesa di Michele Soavi Cannibal Ferox di Umberto Lenzi e chi più ne ha più ne metta ma non solo Giovanni oltre che essere attore di questo tipo di pellicole è anche un intellettuale è il traduttore ufficiale in Italia dei versi di Shakespeare quindi per esempio Gasman quando ha fatto gli adattamenti shakespeariani si è rivolto alle traduzioni di Giovanni Lombardo Radice che ha tradotto appunto l'inglese shakespeariano in italiano e quindi parliamo di un intellettuale conobbi questa persona che non aveva minimamente idea di essere un'icona dell'horror cioè anzi lui ha sempre tra l'altro non ha mai nascosto di odiare Umberto Lenzi e Cannibal Ferox e tuttora nonostante è famoso principalmente per quello ne continua a parlare malissimo che fa parte del suo carattere e per lui erano film alimentari come molti attori ma per esempio anche Jamie Lee Curtis cioè la protagonista dei vari Halloween soprattutto il primo di John Carpenter anche lei non vede horror anche lei odia i film horror e fa il personaggio in Halloween della Scream Queen fino alla sua veneranda età perché guadagna bene ancora oggi lo fa per lo stesso motivo esatto sta fino alla fine perché si guadagna ora però si gode anche un po' il fatto di essere un'icona di questo ci gioca sopra però non ha mai nascosto che lei non gliene frega una mazza e lo fa solo per i soldi e Giovanni altrettanto faceva questi film solo per i soldi come attore quando insomma gli feci scoprire che in realtà era una super icona dell'horror lui si affrettò a cambiare il suo sito lo fece diviso in due quindi la parte buona la parte cattiva la parte oscura si rimiso un po' in sesto e io gli proposi un ruolo appunto in questo House of Flash Manikens che io avevo scritto il ruolo del padre della protagonista che era un cameo lui lo legge e dopo qualche giorno mi chiama e mi dice Domiziano è una delle sceneggiature più belle che io ho mai letto nella mia vita e stiamo parlando di una persona che ha alle spalle quasi 100 film e allora dico 5 anni me l'hanno bocciata tutti questo non è proprio l'ultimo stronzo che arriva dice che è bella boh cioè sai poi eri ancora eri giovane scusa se lo dico così come per dire adesso sei eri ancora ero più giovane eri giovane quindi non è che insomma avevi ancora delle incertezze nella vita no come tutti sai tutto può essere però dico o è andato lui o abbiamo ragione noi fatto sta che allora dico sai che facciamo lo provo a mandare in America questo film questo script e appunto ti dicevo perché che c'entra col fatto che fai l'attore perché nell'annuario degli attori esisteva una volta non c'era solo le cose online una volta c'erano i libri c'era il libro degli attori che era tipo un facebook no dove invece degli studenti c'erano l'abbio le cose e così e scopro che esiste un altro Domiziano che era Domiziano Arcangeli sai con questo nome c'eravamo io Arcangeli e Domiziano Giordano quindi eravamo allora curioso all'epoca c'era MySpace non esisteva Facebook ancora contatto questo tizio su su MySpace perché appunto avevamo lo stesso nome questa era la cosa e comunque un attore con lo stesso nome ti porta curiosità leggo che nella sua didascalia aveva messo attore produttore e allora dico ma già che tu stai a Los Angeles e dici di essere pure produttore ma non è che ti potrebbe interessare produrre qualcosa e lui dice certo come sto cercando cose da produrre gli invio Arcangeli tra l'altro ricordiamolo adesso è morto ha lavorato però con Liliana Cavani ha lavorato con Tinto Brass insomma non è anche lì l'ultimissimo arrivato gli mando lo script dopo qualche giorno mi dice sì mi piace facciamolo e io dico vabbè sì allora cinque anni in Italia che tutti dicono che è una merda sta roba ora arriva Giovanni Lombardo la dice che è la cosa più bella che aveva letto quest'altro produttore dopo due giorni lo vuole fare e comincio a pensare che è un po' tutto un ambiente di cazzoni e quindi lascio passare tempo fatto sta che Arcangeli insiste sei mesi per fare sta cosa a quel punto io dico ma forse questo lo vuole fare veramente e da quando ci siamo attivati al pensare di farlo veramente mi ricordo che era febbraio e ad aprile abbiamo fatto le prime riprese a Roma e poi a giugno a Los Angeles abbiamo fatto il resto del film che è stato il primo film quando io gli dissi hai in mente chi è chi è che può dirigerlo e lui mi disse beh lo fai tu no io dissi ma io non ho mai fatto un film in vita mia cioè ho fatto dei cortometraggi perché riprendevo gli effetti che facevo ma non sono un regista ah no tu lo hai scritto se hai scritto una cosa di questo tipo sicuramente hai la sensibilità adatta per poterlo dirigere nessuno meglio di te mi ha messo in mano questa responsabilità e io me la son presa con il senso di responsabilità facciamo al meglio quello che che si può fare e diciamo che adesso dopo 12 anni il film ancora si continua a vendere ancora ci hanno fatto tesi di laurea ci hanno fatto sì perché poi ha avuto cioè è stata anche un po' non dico fortuna perché è bravura però insomma è andato bene che è piaciuto molto questo film è stato proprio un grande un grande inizio diciamo come guarda è stato un grande inizio però un po' era alcolato tu tieni presente che noi avevamo che saremo andati un po' in perdita con questo film e invece siamo andati molto in perdita con questo film però eravamo tutti consapevoli che e tutti intendo dalla prima per cioè da me che ero coproduttore oltre che regista il produttore tutte le persone coinvolte fino alla truccatrice sapevamo che questo film che hanno lavorato per un low budget quindi per pochi soldi eravamo tutti consapevoli che il soldo la gratificazione sarebbe venuta non solo dopo con la fama del film ma anche economica perché se il film non è rientrato delle spese la popolarità la visibilità che ha avuto ha permesso a tutti e parliamo di una di una crew composta al 98% di gente che era il primo film quindi tolto Giovanni Lombardo radice a Irina Hoffman che è la protagonista che precedentemente aveva lavorato con Christophe Lambert in Metamorfosi per esempio non che era Miss Bulgaria quindi tolte e Giovanni Lombardo radice eravamo tutti al primo film e tutte le persone su quel set ora lavorano nel cinema grazie al fatto che avevamo un qualcosa da poter mostrare un qualcosa di cui si parlava perché tra l'altro House of Flesh Mannequins è del 2008 e stiamo parlando di 4 anni prima di Serbian Film che tanta gente conosce per i meme come il film più estremo del mondo però ricordiamoci che House of Flesh Mannequins trattava il tema dello snuff delle torture con una violenza sessuale e di torture molto esplicita ben 4 anni prima di questo esploit di Serbian Film e tra l'altro il nostro film è stato censurato cioè è stato proprio bannato e abbiamo dovuto girare di nuovo quasi mezz'ora di film per non incappare in denunce quindi c'è stato proprio un il film uscì inizialmente dopo 4 anni dalla sua dal che la gente ne parlava per averlo visto nei festival ma tu intendi denunce in Italia proprio? no in Italia no in America perché mi ricordo che c'era una denunce c'era una legge l'hanno appena tolta la censura proprio no no parliamo di no no parliamo di altre allora la censura non esiste più diciamo no ma in Italia non ti allora tenendo presente che la galera in Italia per esempio l'ha fatta Pasolini per teorema me la sarei fatta volentieri pure io insomma almeno stavo da celebrità anche no? sì cioè ti fa curriculum io speravo addirittura c'è un periodo in cui speravo che mi arrivasse la scomunica perché cioè metti nel curriculum scomunicato insieme a Madonna Marilyn Manson eccetera non è che ti fa male no? però diciamo che la denuncia vabbè all'epoca in Italia era per il reato di oltraggio al pudore offesa alla bandiera quindi se la prendevano in pochi però parliamo di anni 70 60 70 no in America era peggio perché? perché se tutto quello che noi abbiamo fatto su americani nello stato della California è legale perché noi ci siamo mossi legalmente in California però in America se nel Texas un'associazione di famiglie decide che invece te può denunciare e ti denuncia e tu ci vai in causa capito? quindi hanno un sistema legislativo un po' di merda quindi onde evitare questo tipo di ritorzioni perché? perché noi avevamo comunque un minore all'interno del film che era l'alter ego del protagonista questo minore chiaramente non è stato mai presente nelle scene di violenza è un po' come successe con Barbara Boucher per hai dovuto scrivere nessun minore è stato maltrattato in questo film no ho dovuto ho dovuto rimpiazzarlo con un nano tutti i bambini nel film sono stati rimpiazzati da nani nonostante non erano presenti nelle scene no? cioè tu tieni presente che Fulci si è trovato di fronte a questo tipo di problema con appunto non si servizia un paperino negli anni nella fine degli anni settanta e nel duemila e dieci comunque ancora ci si ci si scontra con questo tipo di mentalità ridicole insomma nonostante noi ci eravamo mossi tutti con i permessi della scuola con i genitori presenti sul set però appunto la sola presenza di un bambino su questo set che presentava queste cose cinematografiche no? però ancora c'è gente che pensa che quello che vedi nel film è vero purtroppo e non solo in Italia però il film assunse una popolarità eccezionale mettiamola così non per i suoi meriti artistici ma per tutto lo scandalo che gentilmente ci ha creato Stefano D'Amico della Eagle Picture che all'epoca era marito di Von Shaw che non è nel film che non è nel film che ci che dice alla stampa di averci denunciato perché abbiamo messo sua moglie incinta di otto mesi in un film porno e violento questo questo è ma tu quando hai sentito sta roba hai detto evviva cioè che vengono fuori ste robe su di me no sì all'epoca quando mi ha chiamato il produttore alle otto di mattina lì è un po' un shock ho capito che c'era qualcosa che o abbiamo vinto un Oscar o qualcosa sta andando molto male e mi ha detto hai visto i giornali io no perché che abbiamo fatto eh vedi e praticamente ti dico solo che stavamo sul TG4 ne ha parlato Mentana Novella 2000 ci ha dedicato tre settimanali tre addirittura non uno e ma insomma poi chiaramente è finito nel nulla noi abbiamo fatto una controdenuncia perché comunque Yvonne non era nel film Yvonne era solo un'amica non era nel film e tra l'altro non era incinta di otto mesi lui ha fatto questa cosa solo per una ritorzione perché lei si stava separando da lui insomma quindi comunque alla fine vi ha dato un po' anche un altro boost in più di rumore intorno ma siamo diventati quelli del film porno e violento che mette in rischio i gestanti io avevo i giornali che mi telefonarono era un po' il caso adesso uno più famoso era quello di Deodato no? un po' ti sei sentito anche avevi paura che arrivassero i carabinieri no? no quello no perché tanto cioè mi ripeto sono innocente eravamo in 40 quindi non è che no il discorso è che mi chiamavano i giornalisti questo era inquietante cioè riuscivano a reperire il mio numero non so come quindi pensa dove può arrivare sta gente e mi ricordo in particolare la chiamata di uno che voleva a tutti i costi le foto di Von nuda pagando e io dicevo sì che ha 2000 euro a foto 2000 euro a foto e lì ti hai chiamato i von e hai detto facciamo delle foto e la cosa più bella è che che io dicevo ma non guarda te le darei pure se ci sono ma non ci sono perché non abbiamo girato ah allora si segna il mio numero se ci ripensa mi può chiamare quando vuoi cioè è come se io stessi trattando sul prezzo e questo avrebbe avrebbe addirittura aumentato l'offerta al che io ho chiamato i von per dire i von guarda che qui c'è uno che vuole era corona dicono era corona mi dissolge no che vuole le foto 2 per 2000 euro e i von che mi dice ma daigliele subito io ho detto sì i von però vogliono le foto nuda ah no quelle non ci stanno eh lo so però però era da oggi ci ridiamo però effettivamente tu immaginati primo film ti becchi da una parte dell'america il texas che ti rompe il cazzo da una parte con le denunce con i minori in Italia quest'altro che tu metti a rischio le gestanti torturando le donne incinta poi parliamo che in Italia è l'ambiente che è perché poi il film successivo che non ci stanno gestanti non ci stanno minori non c'è nudo non c'è niente c'è c'è un cast di tutto livello come Maria Grazia Cucinotta Maria Rosario Maggio Gian Piero Ingrassia eccetera eccetera la domanda era ma com'è sta storia della show cioè che avete fatto effettivamente perché poi ti si attacca comunque addosso la diceria e purtroppo ti rimane pure con gli anni no? ma mi spieghi esattamente prima che firmo con te ma quella roba lì rimane un po' leggendaria rimane ti è rimasta un po' sì ti rimane attaccata perché purtroppo c'è gente che te ne parla apertamente ci sono altri che magari ti dicono no io con quello non ci lavoro perché ho sentito dire senti ti faccio una domanda un po' più da fanboy diciamo per così anche per curiosità mia io so che tu ovviamente Fulci l'hai già citato però quali sono diciamo i registi italiani e mi piacerebbe anche quelli americani chiaramente dell'epoca perché che senti proprio che ti hanno un po' portato ad amare il genere è un po' che hai imitato ti hanno dato proprio cinematograficamente anche magari quando proprio eri lì a fare il tuo primo film carico di responsabilità hai detto moco hai provato a rivangare inquadratura movimenti di macchina no 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 diciamo omaggiare sì tentare di imitare no quello ho sempre cercato di evitarlo perché è molto rischioso nel senso che sembri subito derivativo o è una citazione ma cercare di copiare lo stile di un altro non funziona diciamo che ho tentato di dare un tocco fulciano al mio primo film fallendo miseramente non c'è di fulci non c'è proprio niente quindi proprio ho toppato alla grande e diciamo che ogni volta che ho tentato di omaggiare qualcuno perché chiaramente ogni volta che faccio un film dico mi piacerebbe fare un film alla Polanski alla fulci ogni volta ti senti che non ce la fai no non è che proprio anche quando fanno le recensioni non c'è proprio un minimo però gli ricorda tutt'altro c'è tipo House of Flash Mannequins è uscito fuori riferimenti a Lynch che non ce ne sta manco uno e riferimenti a Cronenberg peggio ancora e riferimenti addirittura a Odoroski che per carità sono tutti apprezzatissimi perché mi stai paragonando appunto a tre grandissimi però non c'è proprio niente diciamo che un po' l'arte è anche un po' di chi la guarda in base a chi la guarda ci vede un po' quello che vuole a volte sì diciamo che allora il discorso Lynch in House of Flash Mannequins è derivato dal fatto che c'è una scena dove ci sono delle tende rosse un pavimento in bianco e nero e un nano come se l'avesse inventati David Lynch insomma purtroppo quella scena è stata girata a casa mia e io c'avevo il pavimento bianco e nero e le tende rosse quindi di Linciano cioè semmai c'era casa mia però non l'idea di citare o di fare insomma diciamo che citare Lynch ci vuole ben più che un pavimento e una tenda insomma sì quello mi viene da dire come dici tu è scimmiottare più che altro se uno deve mettere degli è stato un caso insomma semplicemente ho girato lì perché non trovavamo una location quindi ho prestato il salone di casa mia tutto là e avevi già le tende rosse non è che potevi sì sì così era abbiamo spostato le cose però il pavimento quello era e le tende quelle erano quindi sai alla fine e non l'ho arredata pensando a Lynch ecco mettiamo così ti faccio ti faccio una domanda vabbè hai fatto tantissimi film appunto che purtroppo ancora non ho visto anche perché poi spesso per me significa anche recensirli quindi non è che li posso vedere uno dietro l'altro insomma e pian piano spero che me li farai vedere tutti con il tempo riuscirò ad avere tutta la filmografia volevo chiederti c'è una una piccola collana che non ho capito adesso se sta procedendo che si chiama Tetromaniac che hai creato dove ci sono dentro dei film uno è tuo uno alcuni sono di altri registi che sono ispirati ai serial killer famosi e anche un po' meno famosi in realtà e questa cosa è apprezzabile ma allora ti faccio una domanda mainstream hai visto Dahmer? no ancora ok allora posso anticiparlo io così se almeno qualcosa che so lo posso dire perché so sembro totalmente ignorante tu hai fatto un film che si chiama Erotic che io ho recensito che si ispira appunto a Jeffrey Dahmer e quindi ero curioso di sapere ovviamente se l'avessi vista sarebbe stato divertente capire cosa ne pensi di una serie che comunque ha fatto per il momento ritornare in auge serial killer e poi vediamo quanto dura anche se i serial killer sono sempre un po' in auge cioè tornano sempre diciamo che su Dahmer avevano fatto già differenti film comunque in precedenza sempre molto fedeli più o meno fedeli alla storia alcuni anche meno fedeli insomma diciamo che Erotic come tutta la linea tetromaniac l'idea che c'è dietro la linea tetromaniac è quella di prendere una cellula vitale di questo serial killer della sua storia e di trasformarla in una storia nuova quindi non sono biopic non sono documentari sono però film che si basano fortemente su questi fatti reali però li raccontano con una certa libertà io per esempio ho mischiato questi questi rituali scusami questa ritualità del tentativo di zombificare le vittime di Dahmer con i rituali dell'imbalsamazione egiziana quindi se Dahmer era spinto dal creare un oggetto sessuale consensiente io il mio personaggio invece sta facendo non chiari rituali di mummificazione imbalsamazione per rianimare le mummie i corpi perché in realtà lui è un necrofilo quindi non gli interessa che il corpo sia vivo ma gli interessa il corpo morto però questo corpo morto in qualche modo lo vuole riportare in vita quindi ecco chiaramente si distacca molto da quello che è Dahmer però nello stesso tempo tutte le procedure terribili che Dahmer faceva con le sue vittime sono raccontate anche esteticamente ho scelto un personaggio totalmente differente non ha quegli occhiali non è biondo certo non è biondo non è sbarbato anzi è pelosissimo perché non cercavo quello lo stesso tipo di concetto lo abbiamo fatto quando ho fatto Torment che è ispirato a Gacy John Wayne Gacy e anche lì per esempio che alcune persone hanno come si dice criticato il fatto che non sapevamo neanche com'era il trucco di Gacy o il costume allora al di là degli studi che uno fa eccetera eccetera però sai come ci vai tu su internet sono capace di andarci pure io quindi non è così difficile per me vedere come si vestiva Gacy e come era fatto il trucco se abbiamo deciso di fare il costume nero invece che bianco è perché abbiamo puntato ad esempio su rappresentare il personaggio in una maniera ancora più oscura ancora più nera se abbiamo fatto un trucco colato e più sporco e incompleto è perché abbiamo costruito un personaggio differente non perché abbiamo cercato di fare Gacy però sai perché a volte questo mi ci allaccio perché spesso si leggono critiche fatte a cazzo proprio ma non solo sui film no 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 aspetta arriviamoci dopo queste cose delle recensioni delle critiche perché quello è quello è il desert proprio sì 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 però sai sembra sempre che uno che fa un film non sa quello che sta facendo ah non avevano il costume bianco allora hanno perdonami se ti interrompo Domiziano perché io qua in chat l'ho detto tante volte riferendomi ai registi sul fatto che noi andiamo al cinema noi che facciamo altri mestieri e crediamo che quello che stiamo vedendo sia lì per caso che ci siano degli errori che ci siano delle cose e dovremmo avere un atteggiamento un po' più critico nei nostri confronti forse e dire ok sto vedendo una cosa che non mi aspettavo perché l'ha messa lì c'è un motivo perché c'è sempre un motivo perché se tu pensi alla produzione di un film te la immagini con settimane giorni di persone a un tavolo ogni birgola ogni parola viene pensata studiata ma se dico questa parola piuttosto che un'altra sembra un'altra cosa quindi le persone sono un po' leggerine quando vanno a vedere sembra veramente che tu il film lo fai lì giorno per giorno e allora ah ho trovato sto vestito mi metto questo andiamo a girare lì è venuta così addirittura ho letto riguardo al Suspiria di Guadagnino e dico solo Suspiria e dico solo Guadagnino cioè uno che ha Nasti d'Argento Leonidoro e anche un premio Oscar ah non sapeva come farlo finire e allora ha fatto finire ma secondo te uno come Guadagnino e tutto il suo entourage che su quel set ci staranno 300 persone non sanno con tutti quei soldi che stanno a spendere oltre che loro pure di Amazon non sanno come fa finire il film e l'hai scoperto tu tra una girata di su tra l'altro lui anche è come un po' come non per paragonarlo a Truffaut perché mi sembra esagerato però come Truffaut era un critico e di cinema ne sa a pacchi quindi non è proprio un cretino ma come si può pensare che uno non sa come finire il film allora lo chiude così cioè ma come si viene in mente solo di scriverlo cioè certa gente non si rende conto che si mette in una luce auto ridicola a livelli che gli altri non ti dicono niente perché gli fai pena ma non è che non ti dicono niente o non ti rispondono perché sono d'accordo con te il problema è che certe persone che dicono queste cose pensano che nel silenzio che poi si crea intorno a loro c'è l'assenso no? ma in realtà no è che semplicemente la gente non sa che dirti perché giustamente ma che te devi rispondere che te devi dire su che andiamo a parlare scusami ti blocco adesso ti interrompo un po' più spesso perché così andiamo anche avanti col programma intanto ringrazio perdonami ringrazio il Carlito per aver regalato un abbonamento e anche Giorgione per aver regalato un abbonamento grazie mille questo significa che questo contenuto insomma è interessante e mi date dimostrazione grazie mille allora io vorrei però poi lo chiudiamo questo discorso però è un discorso bello ha a che fare con tanti i tuoi film che è il discorso della malattia mentale e delle come si possono chiamare ossessioni che ci sono che molti personaggi come serial killer hanno no? spesso nei tuoi film ci sono per esempio c'è io ovviamente cito quelli che ho recensito quello dello stalker di di Bjork sì The Obsessed sì c'è lui poi appunto c'è ci sono i serial killer con c'è un film che si chiama Vorgore dove tu hai fatto un segmento e altri registri ne hanno fatto però l'idea comunque nasce da te dove c'è questa vorafilia c'è questa ossessione diciamo questo desiderio di mangiare carne umana o di essere mangiati tra l'altro lì c'è il tuo il tuo adesso magari dico una cavolata lavorare lavorare filia è il desiderio di mangiare carne umana quello è il cannibalismo scusami di essere di essere inghiottiti inghiottiti perdonami perdonami no poi mentre parlo chiaramente mi incespico e ne dico bravo hai fatto bene anche lì molti hanno fatto la critica no eh ma non c'entra niente per esempio sul mio episodio eh ma non c'entra niente no no ma infatti stavo per citare il tuo episodio perché secondo me è di un'eleganza incredibile proprio perché non c'è una goccia di sangue e proprio ti sei voluto proprio sei voluto andare controcorrente con quello che è il tuo cinema solitamente non hai potuto dare sfogo alla tua mania di effetti speciali e hai fatto in realtà ah sì perché sì ma in altri modi però più scenografico diciamo però appunto hai creato hai dato la sensazione proprio di essere inghiottiti ed è molto bello e poi io ci ho visto ma penso che sia abbastanza normale un qualche una qualche sconnessione con il discorso della nascita e del tornare dentro la pancia quindi ci deve essere veramente qualcosa di profondo ed è inquietante ma anche interessante da un certo punto di vista e lo sono anche tanti altri temi che porti nei tuoi film io spesso dico secondo me questo cinema il tuo cinema soprattutto è coraggioso perché fa una cosa c'è uno che vede da fuori i tuoi film e dice no mio dio non guarderò mai sta roba c'è una persona che non è curiosa e che si ferma alla superficie e dice no ma questi sono film per pervertiti per persone e qua poi dopo ci sarà anche una domanda io trovo che sia molto interessante questo cinema però non si può fare nel mainstream questo cinema qua assolutamente si può fare ma non chiaramente in questo modo cioè tutto si può fare però come come fai ad arrivare così tanto perché poi alla fine cioè credo che tu sia d'accordo perché lo fai essere così incisivi anche a livello visivo ti apre proprio cioè ti metti in una condizione di disagio in cui il messaggio arriva ancora che forte guarda per esempio cioè ti faccio un esempio il mio segmento in Vorgore per esempio è molto mainstream cioè se fosse dilatato a ora e venti sarebbe diciamo passabile anche al cinema se chiaramente te lo fa guadagnino se lo faccio io non investe nessuno però gli manca cioè allora questo dal punto di vista dell'estremo ma dal punto di vista del ciò che interessa ciò che si vende manca tutto manca il finale il bel finale e tofine manca ma da tutte quelle cose lì che vuole il pubblico abituato sempre alle stesse guarda ti faccio un esempio pratico allora come abbiamo visto il cinema indipendente può comunque arrivare anche nei canali ufficiali parlavamo appunto di Scarlatti che è uscito nel cinema di tutto il mondo e poi con la Metropole Mayer tutto chiaramente ritorna allora io nomino Scarlatti per chi non lo conoscesse si chiama Scarlatti il thriller il regista è Frank La Loggia è in America un cult che viene trasmesso a ogni Halloween nella notte di Halloween è come Natale in casa Cupiello per noi a Natale quindi recuperatelo se vi capita il tema di Scarlatti in realtà nonostante sembra un film di Spielberg cioè il tema dello stupro e omicidio della bambina è una roba terribile infatti è un po' è torbido cioè quando sì sì ma tutto cioè ha dei momenti quel film che sono di una freddezza allucinante in quel contesto giocoso appunto un po' spilbegeriano quindi però ecco diciamo che sono riusciti proprio grazie a questo contorno a riuscire ad arrivare a un mainstream io per esempio nel mio piccolo con quelli che tu definisci film molto estremi per esempio che poi anche lì dovremmo precisare di una cosa che io sono noto all'estero specialmente per questi film estremi io di film estremi e horror ne ho fatti in realtà tre gli altri film sono degli sono quelli che hai mandato a me mi volevi disturbare di la verità esatto ma non so adesso non mi ricordo qual hai visto tu però sono dei per lo più dei disturbing drama per esempio Red Crocodile che è considerato un horror non è assolutamente un horror perché è il dramma di un tossico dipendente interpretato da un tossico dipendente quindi più più neorealista di quello non esiste niente e siamo arrivati non solo in sala in Italia ma anche ai Davide Donatello quindi tu dicevi questo tipo di film non può essere mainstream se hai un po' di fortuna in realtà sì perché io per esempio appunto con con Red Crocodile sono arrivato essere in lista anche con i Davide Donatello che sono uno dei premi più mainstream assolutamente in Italia come è successo questo? è successo grazie alla televisione cioè quando io feci questo film che è un film molto intimista e neorealista con un solo attore dentro un solo ambiente e l'ho proposto da alcune distribuzioni la risposta è stata ma chi gli interessa deve vedere un film con uno che sta dentro una casa tutto il tempo perché tra l'altro dovete sapere che perlomeno a Roma i cinematografari dai distributori parlano tutti così quindi ma chi gliene frega un po' alla Boris diciamo che Boris è molto realistico come si fa ridere però in realtà è molto è molto neorealista anche lì un anno dopo che ho fatto Red Crocodile questa droga che si chiama appunto Crocodile che era nata originata nella parte più povera della Russia ha sfondato i confini russi ed è arrivata anche in Italia ci fecero un servizio le iene dedicato a questa droga e ritorno a Yvonne show nella mia vita nei momenti fortunati io ero in macchina con Yvonne e vedo una chiamata del distributore che l'anno prima mi aveva detto ma chi frega di sto film e io dico a Yvonne vuoi scommettere che hanno visto alle iene ieri parlare di questa droga e improvvisamente trovano il film interessante rispondo e mi dicono vabbè a parte come stai come non stai ma che è ancora libero quel film che hai fatto sul Crocodile e io gli ho detto beh sai è libero sì a chi gli interessa un film che ha un attore dentro una casa ma no ma stai scherzando ma è bellissimo un tema toccante questo è da mandare al cinema insomma fatto sta che è finito nelle sale siamo andati a parlarne perfino da Marzullo pensa un po' però ha qualche scena adesso io non l'ho visto ma ha qualche scena forte comunque no Marzullo beh parliamo di un film dove c'è un personaggio maschile nudo dall'inizio della fine del film quindi già solo questo ti basterebbe il bantone dalle sale certo poi parliamo anche di peni parliamo anche di peni sicuramente sì perché purtroppo sai il pene crea molte pene ai cineasti e nonostante tutto però sì diciamo ci sono scene forti ragazzi stiamo parlando di una droga che ti necrotizza le zone dove le vai a iniettare quindi si inizia a desquamare facendo questo effetto pelle di coccodrillo e poi si vanno a creare buchi fino a scoprire l'osso questa è la realtà non è il film di Cristofaro è la realtà di quello che capita a questi tossicodipendenti quindi se io racconto questa storia racconto anche le conseguenze una storia horror fondamentalmente in qualche maniera diciamo tutti i miei film sono ispirati a fatti reali per quello che tu dicevi c'è una componente umana serial killer stalker eccetera eccetera tutti i miei film sono ispirati a storie reali io non parlo di mostri di fantasmi però sì esatto che lo farei mai un The Conjuring ma va a parte che so che a te non piace a me The Conjuring mi piace molto no 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 non ti preoccupare io sono democratico per carità e poi in realtà è tutto uno scherzo no no lo so diciamo che a te non piace io a me non piace dal due in poi devo dire che non ho seguito neanche più non so neanche che è successo però il primo lo trovo un buon film fatto molto bene costruito bene con delle idee interessanti per esempio l'esorcismo con lei coperta dal lenzuolo l'ho trovato molto geniale perché finalmente ci hanno risparmiato di vedere vomitate teste che girano cose e hanno creato una cosa vedo non vedo che è addirittura più interessante quindi ha molti pregi secondo me il film poi chiaramente stiamo parlando di film fatti per fare i soldi e mentre noi ridiamo di James Van e di The Nama sta facendo tantissimi film a parte che sta fa tantissimi film ma li sta facendo abitando in qualche villa con qualche piscina sì sì no ma poi ti dico a me ci sono dei film suoi che mi piacciono parecchio come Dead Sentence quello con Kevin Bacon oppure anche Malignant non mi è dispiaciuto affatto che non ho visto ancora comunque vorrei tornare un attimo sul tuo cinema perché non voglio fare pubblicità con il mio grandissimo pubblico a James Van che ha già troppa pubblicità sicuramente torno sul tuo cinema perché mi interessa appunto stavo dicendo i tuoi film trattano tutti quegli argomenti del lato umano diciamo che tendenzialmente cerchiamo di tenere lontani che nascondiamo come quando cerchi di nascondere la polvere sotto al tappeto cioè anzi addirittura si ha paura di essere associati ad alcune di queste cose cioè si ha paura anche solo a fare domande perché se fai domande ti fai delle domande su queste cose allora sei come quelli che sono raccontati nei film mentre invece se penso perdonami finisco se penso ad Hammer proprio questa serie mainstream è una serie molto furba che fa dare un'occhiatina perversa a quel mondo è come se fosse un soft porn italiano presente quello guardi dallo spioncino sei un po' porcello ma non sei un maniaco ecco perché c'era il successo dei film con Edwidge Fennec questi gialli i thriller o queste commedie perché se c'era la Fennec in un film come se c'era Luke Merenda era automatico che si vedeva il pisello di uno e la figa dell'altra non c'è piove e questo è dimostrato da tutti i film che hanno fatto quindi se sapevi che c'era quel nome associato a quella pellicola sapevi quello che ci trovavi dentro qualcuno sarebbe stato nudo quindi ecco se vado a vedere il film con la Fennec so già che ci troverò questa doccia dei 5 minuti e la si andava a vederla perché appunto ho il contesto amore vado a vedere il film giallo non vado a vedere la Fennec che si spoglia chiaramente no questo è e oggi un pochino si gioca su quello ma io sui miei film ci gioco con questa cosa cioè non è che non lo so però 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 fronti fronti dei temi abbastanza profondi con grande coraggio se devo essere sincero cioè perché comunque sì sì però ci metto quel tocco di provocazione c'è il tocco di provocazione perché come dicevi tu parliamo di peni tanta gente mi dice ah sì sempre i nudi sempre i nudi sì però intanto te lo vai a vedere allora se ti se ti disturba tanto il fatto che io metto i nudi nei film però mi pare che non te ne perdi uno evidentemente è quello che vuoi mi spiace che così dichiararlo apertamente ti infastidisce però questo è se te lo vai a cercare evidentemente hai l'interesse per l'argomento io non vado a vedere i film che hanno cose che non mi piacciono cioè fermiamoci un attimo sul pene che mi piace sì mi piace proprio il pene mi piace no nel senso che tu non hai non hai remore cioè tu fai il film e sei il personaggio nudo si vede si vede non è che non è non si è obbligato e non sembra forzata la cosa e mi viene in mente che un po' una volta nei film vecchi poteva capitare di vedere l'uomo nudo no? sì e oggi invece sempre meno no? no oggi c'è proprio il terrore cioè il terrore mi ricordo un Harvey Keitel addirittura Harvey Keitel nel cattivo tenente no? Robert De Niro e Gerard De Bardier in novecento di Bertucci che vengono segati insieme cioè non è che stiamo parlando di cose no? sì sì a Parigi certo tra un banni con Vincent Gallo troppi troppi ne possiamo dire insomma che ce ne sono però a me quello che fa ridere un po' gli attori che ti dicono no non lo posso fare il nudo perché mi si rovina la carriera allora innanzitutto parliamo di gente che non ha nessuna carriera alle spalle infatti a Robert De Niro gli si è rovinata proprio sì ma anche a Stallone appunto a tutti a Gerard De Bardier a Vincent Gallo poverino non ha fatto più niente Vincent Cassel cioè la lista sarebbe talmente grandi per non parlare delle attrici di questi poveracci che si sono rovinati la carriera però che ti devo dire diciamo che c'è molta ignoranza alla base di tutto ci sono molti pregiudizi ci sono molti stereotipi tra l'altro parlando di quello che mi dicevi prima mi ricollego un attimo sul discorso del confondere la persona con quello che si fa mi commenta un fan dell'horror un post di Facebook dove io ho postato che domenica ero al mare diciamo anche per chi non mi conosce che io i miei social li uso molto per cazzeggiare perché non penso che siano il luogo adatto dove parlare né di politica né di cose serie perché non mi sembra quello la piazza giusto dove farlo e ci posto tante cazzate insomma e questa persona insomma commentando questo video del mare dove stavo mi scrive ho sempre avuto un dubbio su di te come fai a trovare ispirazione horror per i tuoi film in un posto così solare e tranquillo mentre ti diverti e vivi bene si capiamo c'hai il sole c'hai il mare no come fai è perché il discorso è che io ho altri interessi nella vita cioè a me io non sono un serial killer io non vivo depresso io non vivo dentro casa murato con i poster anzi come puoi vedere alle mie spalle ci sono foto di nudo non ci sono quadri infatti io penso che se uno immagina Domiziano Cristofaro senza vederti senza sentirti parlare immagina una persona crudele e spietata sì con i poster no con i quadri alla profondo rosso la casa buia le cose eccetera è tutto bianco tutto luminoso sì sì a me piace uscire mi piace mangiare non ho la fissa mi piace non ascolto il black metal non ascolto la musica metal in generale non mi piace i miei gruppi referiti sono Kate Bush da prima di Stranger Things i Cocto Twins ecco diciamo che ho altri tipi di interessi mi piace l'horror proprio perché è molto lontano da me quindi fare un film horror mi diverte perché mi permette di andare in territori dove normalmente non vado cioè e questo vale anche per gli attori cioè un attore immaginati tutti piangiamo tutti abbiamo delusioni d'amore tutti ci innamoriamo tutti siamo in momenti felici e contenti e ridiamo quindi interpretare questa roba nei film di base è abbastanza facile perché ti confronti con delle esperienze di vita che conosci e diciamo che dopo un po' ti puoi anche stancare no? perché tante attrici a una certa icone sex symbol decidono che mi faccio il trucco cessa mi imbruttisco e vado a fare monster come Charlize Theron perché sono stufe stufe di far sempre stufe di essere solo quello no? chiaramente posso essere anche altro ma se tu non mi vedi che posso essere altro mi continui a chiedere di fare la figa e allora immaginati invece appunto se tu sei un attore no? e vai a fare 5, 6, 7 film dove ti innamori dove ti spezzano il cuore dove dove che ne so sempre questa roba dove te muore qualcuno è anche un po' il motivo per cui li guardiamo no? è una cosa anche per provare emozioni un po' diverse immaginati invece di interpretare un serial killer un necrofilo di stare sul set dove scorrono una vittima sì litri di sangue dove devi morire dove devi morire male dove ci sono trucchi cioè la fase di trucco infatti la paura diciamo non è proprio la cosa più facile da rappresentare per gli attori difficilmente vedo dei film dove mi trasmettono veramente la sensazione di aver paura no? gli attori è proprio difficile di solito ci sono degli stereotipi per cui la persona rincorsa del killer fondamentalmente è innaturale cioè non è che sta ecco mi viene in mente non aprite quella porta forse è l'unico caso in cui hanno veramente paura loro no? poi dopo invece è tutto molto più più finto più fiction ma sai per esempio tanti film ci sono cose che non hanno senso fare è chiaro che oggi ci sono anche tanti video parodia no? siamo in due in casa c'è un serial killer fuori ah sento un rumore tu stai qua io vado ma andovai cioè è chiaro che nessuno dei due uscirebbe da là ha maggior ragione che c'è un rumore però se se una persona in un film agisce in maniera logica non non c'è il film chiaramente a me un'attrice mi disse eh ma perché devo fare sta cosa mi sembra stupido il mio personaggio non farebbe questo io gli definenzi se non fai sta cosa non finiamo più perché te deve ammazzare quindi trova il modo tu che ti piace di più però fatto sta che tu o cadi o te metti nell'angolo a urla come una pazza però te devi fermare perché se no qua continuiamo a correre e non si può fare no? cioè è normale perché nei film chiaramente ti vai a trovare poi delle alternative no? però c'è sempre la macchina che non parte e l'attrice che è presa dall'isperazione si mette nell'angolo nel panico quella che inciampa e cade perché a una certa si deve fermare no? come si dice se no si continua a correre tutto il tempo a nascondino anzi capace pure che scappi però quella è un'altra storia se mi serve che l'attrice in quel momento si salva riesce a fuggire e poi ci sarà un altro conflitto finale no? però dipende da quello che stai raccontando chiaramente ti voglio fare una domanda su sempre sui tuoi film e come li giri vedendo i tuoi film mi sono dovuto un po' abituare a un modo diverso di interpretare il cinema cioè cosa è bello e cosa non è bello e mi sono mi sono sempre posto la domanda cioè mi sono posto la domanda che poi a cui ho dato la risposta ma vorrei sapere cosa ne pensi anche su ambiti appunto come la fotografia la musica nei tuoi film ci sono anche stili che non sono proprio mainstream ecco nel mainstream io vedo per esempio la fotografia dei film di case infestate ha quella fotografia lì la fotografia dei film teen horror ha tipo True Tordero hanno la stessa fotografia lo stesso modo di recitare quindi ci sono come dei vestiti che si infilano per i generi e sono quelli mainstream mentre invece nel tuo modo di fare i film e anche di altri registi importanti che tra l'altro appunto ho conosciuto anche grazie a teatro video mi sono accorto che il bello è anche qualcosa che tu devi imparare a conoscere cioè gli altri tipi di bello che ci sono un po' come quando sei abituato a una cucina e pensi no quella indiana mi fa schifo quell'altra mi fa schifo e questa è un po' una sorta di chiusura mentale poi alla fine no? beh ritorniamo al discorso che se fai il cinema indipendente e cerchi di fare la brutta copia del mainstream perché fai la brutta copia semplicemente per un motivo che non hai quei soldi e allora non sei indipendente cioè sei molto dipendente in realtà da tante cose quindi anche dal punto di vista delle scenografie cioè il fatto di cercare di fare quello ti rende prigioniero di quella schiavo di quella di quella roba lì sì perché sai io vedo gente vedo film dove il modo di recitare per esempio sono film non farò allora partiamo da questa cosa che purtroppo non si può quando quando tu sei regista non ti vuoi permettere di criticare niente perché subito scatta eh ma chi segrete di esse perché allora sono belli i film suoi però sai io nella vita sono stato regista 30 volte perché 30 sono i film che ho fatto compresi corali forse qualcosina di più però sono 30 spettatore invece io lo sono stato migliaia di volte quindi ho tutto il diritto di poter parlare di un film che mi piace o non mi piace esattamente come le altre persone e non è invidia non è competizione è semplicemente che magari ci sono cose che non funzionano però è discorso dal il non mi piace da una cosa che non funziona no? ci sono tanti dissoni quello che non funziona per esempio in molti film indipendenti italiani è che sono palesemente girati a scurco la marzicana con tanto dei cartelli che ti dicono l'autostrada per roncobilaccio e poi no è ambientato in messico no tesoro se vede che non è il messico che sta in abruzzo cioè lo puoi fare in italia però cioè ricordiamoci che Sergio Leone i suoi western li girava in italia però cazzo vatti a scegliere la location giusta non mi non mi di che non posso fare esempi troppo perché poi sei quello cattivo però sai se mi fai il 911 della chiamata d'emergenza americana dalla cabina telefonica italiana è normale che non ti risponde che non funziona ah cazzo questo telefono non funziona è grazie se fai il 911 dalla cabina italiana è normale che non funziona cioè esiste la scenografia apposta sono cose che non che io onestamente non posso perdonare perché sai qual è il discorso e tu dici sti cazzi che tu non le perdoni lo dico pure io però t'ha obbligato qualcuno a fare quel film no t'hanno puntato una pistola contro no è gratis nì perché se anche è gratis tu stai spendendo tempo la benzina per andare sulla location sti vori attori li vogliamo far mangiare quindi comunque il mangiare alla fine è quella giornata qualcosa ti è costato se non di soldi di fatica di energie allora già che stai lì di tua libera scelta ma la vogliamo fa meglio sta cosa o vogliamo di che il supermercato sta in america e ci lasciamo le scritte uscita entrata in italiano perché manco ci va a destampare un cartello e attaccarcelo sopra e allora se non te ne frega a te del film che stai facendo ma perché me ne deve frega a me di salvartelo questo non ci metti amore tu ma perché ci devo mettere amore io e questa è la differenza io per dirti quando se devo andare a girare in un esterno mi vado a vedere la location prima non vado nel bosco anche se vado a girare al mare io vado a cercarmi quale punto nel mare vado di spiaggia intendo e mi vado a vedere i vari orari del giorno qual è la luce migliore poi ci vado a girare non che prendo vado e che sia mezzogiorno che sia 9-7 di sera che ci sia nuvolo o meno la giro e come viene viene no perché poi quella rimane e alla gente non gliene frega niente che tu non c'avevi tempo perché nessuno ti ha obbligato a farlo e spesso si giustificano così io sono terrorizzato dalla quantità di robe che volevo chiederti dovrò fare un dai comincia a chiederle no no perché alla fine stiamo parlando sto cercando anche di rimanere anche un po' sulle cose che fai tu mi sono ricordato mi sono accorto che non ti ho risposto a una domanda che mi chiedevi i registi preferiti sì ecco abbiamo parlato di Fulci se ce n'è qualcun altro italiano e anche mi interessa quelli diciamo non italiani diciamo allora ti sorprenderà forse però allora io non ho tanti registi horror favoriti i miei registi in generale italiani che sono la mia sì ma anche non horror va bene sì sì che sono la mia bibbia guarda in primo luogo metto Federico Fellini che è in assoluto il mio regista preferito poi ci mettiamo Mario Bava e Lucio Fulci per quanto riguarda il discorso horror che per me sono nella loro diversità proprio quello che significa il concetto dell'horror da una parte quello più cupo quello più lovecraftiano se vogliamo viscerale dall'altra parte Mario Bava abbiamo questa forma di ricerca stilistica anche molto molto stilistica e Mario Bava poi era un grande artigiano quindi italiani abbiamo questi stranieri Bob Foss che è al mio primo posto regista di musical e non solo e Roman Polanski Carpenter per esempio e Fritz Lang su cui ho fatto la tesi all'Accademia di Belle Arti quindi chiaramente verriamo di rimaniamo un po' anche su questo tema un attimo ma invece di nuovi registri o nuovi film ovviamente horror per tornare un po' al tema del mio canale cos'è che ti piace che ti è piaciuto anche dei mainstream intendo anche i nomi famosi insomma per fare nomi che le persone conoscono se c'è qualcosa che ti è piaciuto evidentemente se si può definire horror mi è molto piaciuto Climax o Climax di Gaspar Noè mi è molto piaciuto Suspiria di Guadagnino penso che sarebbe interessante fare una tesi sui due Suspiria per il modo in cui il concetto del politico torna finalmente al cinema con il cinema delle streghe perché una cosa importante il cinema horror si è mosso per decadi e ogni decada rappresentava un momento storico ben preciso quindi facciamo un esempio il 60 gli anni 60 con questa paura della libertà sessuale no? e sono esplosi tutti i vari Anthony Perkins di Psycho o i vari Pipping Tom no? con queste mamme oppressive con questa omosessualità latente il nemico era il diverso anni 50 abbiamo tutta questo esploi dei film dell'invasione aliena marziana ma perché Marte non venivano da Saturno venivano da Marte il pianeta rosso la Russia che vuole invadere gli americani eccetera eccetera sono delle cose molto molto interessanti da analizzare gli anni 80 i vari Freddy Krueger Jason sono tutti serial killer e gli anni 80 sono gli anni in cui in America esplode il fenomeno totale della pazzia collettiva dei serial killer c'era Zodiac che seminava il panico Dahmer il cannibale metropolitano no? quindi ogni film horror rappresenta un po' una paura di una certa era ho saltato gli anni 70 perché? perché negli anni 70 c'era il femminismo non è un caso che tutti i film di streghe sono nati negli anni 70 tremate tremate le streghe sono tornate e la chiave politica dietro al discorso dei film di streghe ce la dà per esempio anche le regine di Cervi che rappresenta proprio le streghe come tre libertine sessantottine no? quindi che vanno a punire l'uomo hippie addirittura quindi proprio più chiaro di così quello che mancava nel discorso del cinema di streghe che manca tutt'oggi è proprio questa componente di contestualizzazione politica io trovo abbastanza ridicolo fare un film di streghe oggi perché è totalmente decontestualizzato infatti The Witch che è ecco Eggers lo mettiamo pure però quello di Guadagnino ti ha ti ha colpito beh innanzitutto ambientato in un periodo storico preciso e se non è femminista quella scuola di danza certo cioè se non sono femministe quelle ha riportato il concetto di politica sociale all'interno della pellicola e soprattutto io ho una cosa che ho amato tantissimo del Suspiria di Guadagnino che ha ridato dignità al concetto delle tre madri cioè chi sono queste tre madri le parche la morte la vita non solo lui le ha fuse tutta in una è la vita e la morte nel finale è molto bello quando lei chiede vuoi vivere o vuoi morire no? Ha ridonato una dignità che onestamente nei film di Argento era persa cioè una sta a morire su un letto col catarro di vecchiaia un'altra fa l'abbadante a un paralitico e l'ultima si è rifatta le tette in attesa di risorgere cioè diciamo che come figure soprannaturali che tra l'altro vengono fatte fuori in un battibaleno si perdeva un po' il senso mistico di queste figure no? Cioè Guadagnino invece l'ha riportata come una figura che si rigenera addirittura trasformando la Marcos in una impostrice no? o impostora come si dice in una comunque in una che sta ricoprendo un ruolo che non è il suo perché non è quella poraccia sfigata piena dei tumori una vera strega cioè è una strega ma non è una parca la parca viene d'altrove da lontano e ha il potere di vita e di morte allora io l'ho trovato molto molto geniale questa lettura cioè Guadagnino ha una sceneggiatura dietro che ha due palle così comunque volevo dire stessa cosa vanno molto di moda le maratone qua su Twitch sì a saperlo la prossima volta organizzo una maratona e parliamo all'infinito perché sei un fiume mi fa piacere perché è un argomento per cui vai pazzo quindi inizi a parlare sei un fiume di informazioni quindi sono contento però insomma mi spiace perché il tempo sta un po' finendo e quindi io sto qua per te ti voglio chiedere per chi sta seguendo se stanno seguendo io ho una domanda così su Tetro Video ti va di parlare di Tetro Video un attimo? come no? allora Tetro Video è dimmi se sbaglio un'etichetta che hai fondato etichetta di distribuzione di film insieme a Entonicoia sì insieme a Entonicoia che è nato come musicista di alcuni dei miei film poi siamo diventati amici ci accomuna questa passione per l'horror per l'horror indipendente soprattutto cosa sì scusami perdono quindi abbiamo deciso di fare questa questa label per collezionisti ok cosa ti piace del fatto di tu sei ovviamente distribuito anche da cioè prima di fondarla ridistribuito da altri nel mondo eccetera ma ovviamente adesso ti stampi anche i tuoi film cosa ti piace del fatto di avere diciamo la cura che vuoi tu per un tuo cioè un tuo film te lo cioè non so come dire hai controllo su come esce come viene accompagnato in realtà ti dico no non ce l'hai no diciamo che non è che perché la label è mia decido io diciamo che innanzitutto non tutti i miei film escono con Tetro perché Tetro comunque ha una linea molto specifica e non tutti i miei film ne fanno parte quindi continuano tranquillamente ad uscire con altre label e ci sono film che per esempio Tetro non ha e non avrà mai diciamo che Tetro essendo nasce come label per collezionisti fa di base cose belle e m'ero preparato per questa domanda perché lo sapevo che me l'avresti fatta perché dice ma che cazzo è Tetro perché dici cose belle questa per esempio è un'edizione Tetro cioè i tre dischi due dischi quanti so tre due di Kyotaka Tsurisaki per esempio in questa confezione a forma di bara ecco per far capire che sono effettivamente ma l'edizione quella in dieci copie dorate cinque o dieci copie dorate non ce l'hai lì sotto mano no perché no perché quella di quella di non ce l'hai neanche te no 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 era di Marian Dora ne sono state fatte dieci super limitate e sono chiaramente sono dieci sì non esistono neanche per noi cioè lo spiego c'era c'era questa edizione in dieci copie poi con una grafica giustamente molto dorata perché insomma evidenziava l'unicità insomma dieci copie io non sono molto esperto di collezionismo però un film in dieci copie non l'avevo mai sentito quindi sono rimasto impersonato no aspetta aspetta erano dieci copie di quella edizione però di quella di quella no poi c'è un'altra edizione probabilmente il film è stato distribuito mi sembra in duecento copie però sempre molto limitate cioè ce n'erano tipo sì però diciamo la mia la mia domanda era diciamo chiaramente quello che decidete per sulla qualità la cura la grafica eccetera eccetera chiaramente quello che fate lo fai per anche per i film che ci sono tuoi ma poi appunto su tutto quello che è dietro è un po' mi chiedevo quando uno poi si vede stampati i film da altri insomma ne succedono sempre di cose no quindi un po' volevo capire sei contento comunque di almeno su qualcosa avere un controllo perché a volte veramente uno fa un film e gli cambiano il titolo gli cambiano quello ma guarda questa cosa succedeva in principio molti anni fa quando avevo poca esperienza quindi sai adesso per esempio nei contratti io metto che voglio avere l'approvazione sul titolo e sul poster ma questo non perché io sono un rompipalle mi hanno chiesto di rendere più commerciale un poster un titolo di un film e ho accettato di buona di buon cuore nel senso perché se ti aiuta a vendere meglio cambiare titolo però sai mi sono ritrovato dei film con dei poster che non c'entravano proprio nulla col film e con dei titoli che non c'entravano niente e il problema è che poi ne va a pagare le spese il film perché se tu mi metti infermiere nude in copertina di uno non le trova che ciucciano il lollipop e poi ti trovi un disturbing drama di quasi due ore dove ci sono torture e cose eccetera sai alla fine le aspettative che tu presenti le vai a tradire o per esempio la tragedia più grande fu per Bloody Sin che è uno dei film di cui io parlo sempre poco perché è stato non solo travagliato nella sua creazione totale dall'inizio alla fine ma anche nella distribuzione questo che era un horror comedy che omaggiava appunto i gialli degli anni settanta ti dico solo che il sangue è glitter quindi ti puoi immaginare la serietà con cui il film è stato concepito cioè il sangue era glitterato cosicché quando scorreva scintillava tant'è che la frase di lancio era in italiano loro non sanguinano luccicano they don't bleed they sparkle e la label l'ha fatto di tutto per venderlo come un horror estremo quindi con la copertina con la cosa chiaramente la gente che cosa leggi oggi in giro del film eh ma non fa paura eh ma fa ridere non è un horror fa ridere sì in realtà sì perché è un horror comedy quindi quindi è quello che deve fare però se tu ti aspetti un horror pensi che io ho toppato tutto e quindi sì allora è lì che non mi piace quando si va a fregare un po' il discorso del pubblico no? cioè ti faccio il poster ti faccio il titolo ti faccio il trailer che ti acchiappa e poi in realtà ti sto vendendo un'altra cosa ecco quello non mi piace perché poi ne paga le spese il film sì pagano tutti alla fine perché anche chi lo compra ha comprato la cosa sì diciamo che il distributore non paga perché il distributore vende certo lui poi il risultato è che poi mi arrivano palate di merda a me è diverso giustamente comunque tetro diciamo distribuisce indipendenti tra l'altro anche cose che veramente interessanti come Be My Cat che era in giro da due o tre anni e mi sa che nessuno aveva intenzione di stamparlo almeno stranamente stranamente ancora nessuno l'ha stampato a parte noi no appunto ci sono delle perle in giro comunque molto interessanti che penso sia questo l'obiettivo di tetro anche per far emergere questi prodotti sì diciamo che come label non distribuiamo assolutamente prodotti in cui non crediamo cioè anche quelli che hanno la componente più amatoriale sono comunque film che valutiamo sotto il punto di vista appunto di passione di messaggio di valore storico anche del contesto politico in cui sono fatti adesso stiamo facendo una serie di film di Usama Al-Mahiv non so come pronunciarlo bene va bene insomma comunque è un regista iraniano che sono dei film anche studiati nell'università cioè sono film fatti con una certa povertà amatorialità se vogliamo di mezzi però sono politicamente molto forti anche contando dove sono stati fatti e con che cultura si va a confrontare no? quindi diciamo che cerchiamo di proporre prodotti di qualità ecco il filmetto tanto per fare il favore all'amico o a te stesso non lo facciamo e li trattiamo poi sempre bene cioè facciamo sempre edizioni comunque che normalmente trovi per che ne so per Halloween o per Nightmare no? si si ti trovi il media book ti trovi il gadget anche dei vecchi cult state facendo riemergere si beh vecchi riemergere no perché per esempio anche qui casualmente ho questa bellissima edizione di Ultimo Treno della Notte di Aldolado che però è per la prima volta in Blu-ray in Italia chiaramente non siamo noi a far riemergere questo cavolavoro che però non era facilissimo da reperire nonostante tutto al di là dello si no a riemergere poi io intendo anche proprio il fatto che arriva talmente tanta roba poi adesso con lo streaming proprio c'è un abuso di un consumo incredibile di materiale video lo chiamerei giusto per e non è che la gente non sapesse cosa sono questi titoli ma comunque è come veramente se finissero sotto una montagna di altre cose no e appunto poi un prodotto un distributore dice io che che distribuisco a fare questo film che non faccio i milioni che farei con Stranger Things per dire quindi è un ruolo è un ruolo importante secondo me e ha il suo mercato tra l'altro cioè ha la sua dignità come mercato e tutto quindi è una figata ti faccio un esempio in ultimo treno della notte noi oltre al Burei abbiamo abbinato la colonna sonora che non solo è di morricone e tanti non lo sanno ma la colonna sonora è praticamente introvabile cioè se oggi vai a comprare la sola colonna sonora e ne trovi una copia ti costa tra i 50 e i 60 euro noi adesso non mi ricordo adesso non costerà più così perché grazie all'edizione quelle no sono edizioni diverse perché magari il vinile continua a avere quella di copie però ecco per dirti abbiamo abbiamo pensato di abbinare la colonna sonora al film perché effettivamente anche lì era un qualcosa che si stava perdendo cioè una colonna sonora di morricone che praticamente non viene più stampata e non e non è reperibile e allora abbiamo pensato di ridare ecco in quel caso sì un po' di vita perché chi prende il film si ritrova anche il cd che tra l'altro riproduce abbastanza fedelmente il disco della della cam e poi comunque questi titoli magari una persona che segue l'horror da tanti anni li conosce però come fa un giovane a sentirne parlare nuovamente se non ci sono delle nuove uscite dei persone che recensiscono di nuovo il film cioè come fa cioè sparisce veramente ma diciamo che oggi c'è si fa gocita tutto quando quando io ero ragazzino si i film uscivano in sala stavano in sala tre mesi quattro mesi cinque mesi oggi stanno massimo due settimane se è un successo se no stanno un weekend ci vengono cambiati ci sono anche quelli che stanno un giorno solo penso si purtroppo è così ma anche le uscite cioè io per esempio ne stavo parlando proprio ieri no è uscito questo antropofagus 2 di Dario Germani che è un regista di italiano giovane nuovo e anche di di talento che ha fatto tra l'altro su Amazon Prime si l'ho recensito quello lì lo puoi vedere lettera H no scritto da Andrea Cavaletto ha fatto questo antropofagus 2 stiamo parlando di un di un sequel diciamo reboot ufficiale di un cult neanche il tempo di uscire in sala che già stanno facendo uscire il secondo film di Dario Germani cioè non così la gente però la bruci perché non dai il tempo neanche di di respirarlo quel prodotto non mi dai il tempo di cercarlo non mi dai il tempo di vederlo che già me ne stai piazzando un altro è come al supermercato no creo prendo la bottiglia d'acqua ci ci rimpiazzo subito quella nuova lasciami un attimo il vuoto cioè lasciami l'attimo io avevo una domanda su come il cinema e come internet e soprattutto diciamo la banda larga perché poi è stata quella a spingere le piattaforme come ha cambiato il cinema in tutti i sensi ma un po' ci stiamo entrando in questo in questo discorso dal tuo punto di vista che cosa cioè ti vedi più negatività o più cose positive ma guarda all'inizio positivamente adesso adesso non c'è troppa roba c'è troppa roba la gente si annoia facile ma tra l'altro pensa pure a questo le serie tv no sono fatte in un certo modo ci sono persone che se le vedono tutte in un giorno cioè ma ti vuoi io mi ricordo quando c'era TwinPix se in televisione dovevi aspettare quel mercoledì sera su canale 5 avevi anche il tempo di riflettere su quello che avevi visto insomma adesso si vedono roba di ore tutta in una tipo squid game io so di gente che se le vista in una giornata intera si sono messi in casa ma come fai a apprezzare la roba così cioè come fai a dargli un valore come fai a viverla perché poi sì non metto in dubbio che magari te la vedi con attenzione ma dopo 6 ore di visione cioè comunque sei anche distratto sei anche più stanco sei anche magari ti vai a perdere delle connessioni no? cioè io penso che ormai c'è troppa troppa fretta di consumare tutto quindi non e di passare anche a qualcos'altro subito dopo no? cioè la smaglia e tra l'altro una cosa importante che adesso è diventato tutto o capolavoro o merda non esiste più il film discreto sufficiente una volta c'era il film com'era quel film ah carino vattelo a vedere io mi ricordo che ne so morte a 33 giri o spiritica no? com'era? ah carino adesso è merda sì sì cioè o è capolavoro o è merda mi fa ridere perché sono gli stessi temi che porto io in live spesso e cerco di spiegare che comunque anche un film per esempio che magari non è venuto bene al 100% però può anche avere delle cose interessanti delle idee interessanti e quindi avere un valore ma come no ma soprattutto per noi che per esempio facciamo vogliamo fare il cinema bisogna vedere di tutto perché non sai mai un'intuizione geniale perché anche nel film è brutto non mi ricordo chi lo diceva ma lo diceva qualcuno di importante 5 minuti buoni ci stanno e allora hai visto una cagata pazzesca però c'era qualcosa di buono ecco che ti può servire perché se non sai anche vedere se non sai il linguaggio che è stato sperimentato non puoi parlare in maniera completa non so se mi spiego cioè tu per scrivere in versi devi prima conoscere l'italiano non è che puoi subito fare le poesie o addirittura creare decostruire un linguaggio devi prima conoscerlo il linguaggio poi lo decostruisci allora ne stavo parlando qualche giorno fa proprio con Anthony di Gran Bollito di Bolognini non so se lo hai visto con allora per chi non lo ha visto vedetevelo è un altro di quei film rovinati dal titolo Gran Bollito è un titolo di merda onestamente e tutti i trailer che vedrete online sono dei trailer di merda perché vi pongono questo film come se fosse una commedia grottesca non è una commedia è un dramma tostissimo con un cast spettacolare tra cui Shelley Winters Geraldine Chaplin Max von Sydow solo per citarne alcuni con addirittura una colonna sonora firmata con le canzoni di Mina quindi stiamo parlando di un super filmone di Bolognini ripetiamo ed è un dramma ferocissimo ispirato alla Cianciulli la saponificatrice di Correggio quindi un film spettacolare tra l'altro questo film ha delle licenze poetiche incredibili cioè le amiche della saponificatrice interpretata da una Shelley Winters straordinaria che fa un'italiana meglio quasi di Anna Magnani in certi momenti lì vedete quella cosa e capite cos'è un'attrice le amiche sono interpretate da uomini uomini vestiti da donne ma non che fanno i travestiti che fanno la donna Max von Sydow Renato Pozzetto e Pionello che interpretano le amiche senza nessun motivo logico per cui sia un uomo a fare la donna licenza poetica dell'artista e allora viva quel cinema libero quindi sei per la sirenetta nera ma guarda non me ne frega niente perché lì era per fare una battutaccia diciamo che ma visto che Renato Pozzetto può fare una donna cioè mi sembra no ma io sono a favore cioè ognuno può fare quello che vuole tra l'altro un pozzetto straordinario in quel film che veramente ti fa capire l'attore che poteva essere nelle mani giuste però sai il discorso della sirenetta nera è diverso perché è un discorso di provocazione o di lecchinaggio verso un certo tipo di pensiero per loro è marketing comunque per Disney è marketing fondamentalmente la voglia no no qui si tratta di sperimentare cioè se uno non si è visto i film di Carmelo Bene di Luis Buñuel ma di Polanski stesso un film per esempio come Repulsion ma come fai a parlare di cinema e a fare il cinema pensando di inventarti qualcosa se non sai quello che hanno fatto prima a me sai quanta gente giovane per esempio sui set mi dice ah ma questo non si può fare eh ma questo non si può fare eh ma ma perché non si può fare l'unico limite è la tua ignoranza ah lo scavalcamento non si può fare un errore sì in un determinato contesto lo scavalcamento di campo è un errore però per esempio lo scavalcamento di campo lo usa Kubrick in Shining e non mi sembra che è l'ultimo stronzo alla regia Kubrick no? e allora se tu sai quello che stai facendo e come lo fai puoi manipolare quello che vuoi certo capisci che intendo cioè beh sì sì è come è un'arte quindi come il cubismo ha distrutto le anatomie e tanta gente dice ma che ci vuole a fare quadri come Fontana faceva gli strappi sulla tela lo so fa pure io sicuramente lo sai fare anche tu non mettiamo in dubbio che tu puoi strappare una tela però quando l'ha fatto Fontana uno non lo faceva nessuno due c'era un contesto politico sociale artistico sì sì è come è come è come è come è come è come che prima di fare quello disegnava realistico in una maniera mostruosa quindi lo stesso Mondrian sai quanti ne sento dire Mondrian è quello che fa i quadrati no? sì Mondrian prima di arrivare a fare i quadrati però disegnava in maniera iperrealista perché ha astratto cioè l'astrazione significa astrarre quella che è una forma no? partiamo da una figura per renderla astratta non puoi partire a fare i quadrati e dire allora dipingo pure io e lo stesso problema che c'è con molta gente che fa cinema oggi cinema indipendente si mettono a fare i film all'americana alla Tarantino ogni tanto ti interrompo perché voglio tornare anche sul tuo cinema il tuo cinema è un po' è un po' anche video arte ridetta proprio male però cioè tu ti prendi comunque la libertà di fare un po' quello che ti pare nei tuoi film mi viene in mente appunto Obsessed c'è di tutto c'è proprio è un bel trip c'è tanto del teatro parlando di luogra era necessario c'è un po' un po' tutta la tua esperienza del teatro nei tuoi film cioè sono proprio fuori dallo schema classico cioè se hai bisogno di fare qualcosa insomma di controcorrente cioè non di controcorrente ma di inaspettato lo fai no è che semplicemente penso a come raccontare meglio una determinata cosa e soprattutto raccontandola magari in una maniera personale cioè io questo lo dico per esempio sempre anche agli attori e ti faccio un esempio molto scemo la scena di pianto no? ma tu hai in mente quanti tipi di pianto esistono quante sfumature cioè non è solo quello singhiozzando come i bambini che è la prima cosa che gli attori cani ti vanno a fare quando devono piangere cioè si può piangere di nervoso si può piangere di rabbia si può piangere di dolore si può piangere di gioia si può piangere singhiozzando si può piangere senza lacrime si può piangere in silenzio allora perché non ti trovi la cosa tua per piangere perché mi devi copiare una cosa che ti è piaciuta io una cosa che per esempio detesto questo è molto più vicino appunto alla tua esperienza teatrale cioè quando si cerca di far venire fuori la bravura cioè del talento da un attore teatrale si va nel suo io è diciamo più l'unicità cioè io una cosa che per esempio c'è stato un periodo che avrete visto tutti questa esplosione di fiction italiane magari fatte anche benino dove poi c'era queste che ne so tipo scuola di polizia squadra di polizia ste robe qua Aris non lo so non è che seguo molto sta roba però c'era sempre qualcuno che a un certo punto teneva la pistola così perché hanno visto sta tarantinata o non so se era Leone che faceva sta cosa o Tarantino fatto sta che è piaciuta tanto per credo dieci anni abbiamo visto sta roba fatta da tutti gli attori cani che ci abbiamo avuto in Italia perché ti dico cane perché se tu studi un tuo personaggio che tu sia un poliziotto o che tu sia un malavitoso devi andare in un poligono devi andare a prendere una pistola in mano sentire quanto pesa e vedere se effettivamente ti puoi permettere di sparare così perché non lo puoi fare allora che Leone lo faccia perché è un personaggio figo ma poi mi sembra anche un po' scorretto se vuoi seguire delle linee guida perché è più da criminale come modo di portare la pistola no? cioè in polizia ti diranno di sparare in un certo modo ma un criminale comunque non ti spara così perché non puoi allora infatti una pistola pesa tantissimo ma se non te la fermi la mano il rinculo è capace che ti spezzi pure un polso e da così non mi rimanco cioè non puoi è quello che ti voglio dire ma questa superficialità ce l'hanno su tante cose io vedi fui a uno degli ultimi Fantafestival no gli ultimi uno un po' un po' più vecchio dove c'era non faccio i nomi però c'era ospite questa attrice italiana che aveva fatto un film americano una copia di una brutta copia di Sov quindi non ti dico il titolo però ci potete arrivare qual è è un film americano che è una brutta copia di Sov con un'attrice italiana e questa attrice era ospita di questo Fantafestival e diceva ah per prepararmi al mio personaggio cioè una criminologa un po' sulla falsariga di Jodie Foster nel Silenzio di Innocenti per prepararmi al mio personaggio ho dovuto vedere cose terribili e questa cosa a me mi ha attizzato un po' no questo questo racconto perché mi immaginavo già questa attrice che con il metodo dell'Hactor Studio se ne va negli obitori se ne va nelle insomma a parlare con Jodie per vedere che cosa vede un coroner quello che è il suo personaggio ho dovuto vedere cose terribili in realtà si era vista tutti questi film terribili tipo il collezionista di Ossa che l'hanno traumatizzata il silenzio degli innocenti appunto Sov perché si stava studiando la recitazione delle sue colleghe per vedere come avevano fatto loro i personaggi cioè e io lì dicevo dentro di me cioè tu per studiarti un personaggio ti sei andata a copiare come lo faceva Angelina Jolie o Judy Foster e andare a vedere cose terribili cioè ti sei andata a vedere i film perché presentavano scene che per te sono troppo forti no e io ma trovassi un lavoro vero no cioè mi sorprende pure che tu hai fatto un film tra l'altro primo e ultimo film che questo ha fatto e ci sarà un motivo allora siamo praticamente l'abbiamo fatto tardissimo però voglio visto che colgo l'occasione per parlare di una cosa freschissima se ti fa piacere a me fa piacere che è Indiocracy freschissimissima finita oggi esatto io ho visto il post visto che hai fatto un post per dire che hai finito questo nuovo progetto e ho detto cavolo allora chiudiamo con quello perché così magari hai voglia di parlarcene sì allora è un Indiocracy è una raccolta di interviste a chi ha fatto il cinema indipendente quindi non amatoriale ma il cinema indipendente vero degli anni 70 e 80 alcuni personaggi che sono secondo me gli esponenti più liberi di questo pensiero quindi troviamo Venantino Venantini troviamo Mirella D'Angelo la tilde di Tenebre per capirci o la moglie di Caligola in Caligola quindi non filmetti troviamo Antonio Tentori sceneggiatore per Gio D'Amato per Bruno Mattei anche per Dario Argento Claudio Lattanzi regista di film come Killing Birds o il nuovo Every Bloody Sand ma anche aiuto regia per persone appunto come Michele Soadi quindi insomma diciamo ci sono personaggi che hanno fatto il cinema indipendente quando c'era l'era d'oro del cinema e ascoltarli io non dico che è un documentario dico che è una raccolta di interviste a questi personaggi che ci danno uno spaccato su com'era innanzitutto lavorare a quei tempi ma la cosa che a me ha colpito di più montando queste ore di intervista di ognuno condensate poi in solo due ore purtroppo che la parola che ricorre sempre e dalla bocca di tutti nonostante fra loro non si conoscono tutti sono sempre umiltà gavetta sacrificio e amore ecco questa cosa mi ha molto colpito che gente che il cinema l'ha fatto e lo continua a fare ancora parla di gavetta ancora parla di sacrificio e ancora parla di passione quando oggi ti ripeto si ha a che fare con gente più giovane che veramente sono miracolati a fare questo tipo di cose e già sono stufi già sono annoiati e già pensano che tutto gli sia dovuto e questo è un po' un po' triste e pensi che uscirà anche in un video o è troppo presto per fare questi sicuramente sì perché visto che è una diciamo una sorta di documentario ci sono dei personaggi coinvolti interessanti perché ho visto già una locandina molto figa molto bella quindi già sicuramente partiamo con i festival sicuramente parto con il fare un po' di festival perché penso che sia un argomento molto interessante e sicuramente un'uscita un video ci sarà in Italia sicuramente l'estero non lo so perché essendo parlato in italiano chiaramente sono due ore bisognerebbe tradurre tutto quanto non so sai bisogna capire quanto una lab l'estero sia interessata a mettere in giro un prodotto dove ci sono due ore di sottotitoli da vedere però magari sì magari no vediamo bene 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 ma senti Domiziano io vabbè è andato un po' sono contento perché veramente abbiamo parlato di cinema proprio come abbiamo fatto anche tra di noi per cui è stata una bella chiacchierata poi ho visto che proprio non ho dato molta retta alla chat però secondo me hanno seguito con interesse perché ci sono sono venuti fuori i 3000 argomenti io ti rimando l'invito a più avanti in modo che magari possiamo anche entrare più parlare di altri film entrare più nel dettaglio anche di altre cose perché hai fatto talmente tante cioè sei arrivato qua che hai una montagna di film sulle spalle progetti di ogni genere non abbiamo quasi neanche parlato della tua carriera da attore da scenografo precedente non abbiamo parlato del futuro magari ecco se mi vuoi chiudiamo con quest'ultima cosa così chiudiamo in modo classico che cosa che cosa hai per la testa per il futuro l'horror non horror cambiare fare il futuro in realtà è come tutte le cose un ritorno al passato un cerchio quindi ho iniziato con il teatro sto ricominciando a fare teatro una cosa che appunto non ho detto sì ho fatto film anche come attore però nasco come attore danzatore nel teatro teatro di contemporaneo teatro danza e a quasi 50 anni mi sto rimettendo a fare il teatro buto che è un tipo di teatro appunto contemporaneo di dirigazione giapponese e sto con molto piacere riapprocciandomi a questo tipo di di performance perché mi mancava un po' quello che il cinema non mi sta dando più cioè il rapporto col pubblico ormai è tutto troppo fast food ma anche i festival sono diventati fast food sono diventati io mi ricordo una volta i festival horror erano nei circolati indie nei garage si improvvisavano festival horror nei circoli era tutto quasi una cosa un po' illegale e ti incontravi con altri registi ti incontravi con il pubblico ti incontravi con gli appassionati adesso invece come i registi cercano di fare i film alla James Bond anche i festival cercano di essere tutti come Cannes quindi è tutto politicamente corretto non c'è più spazio per i film che sono appunto fuori da certi schemi e soprattutto stanno diventando tutti molto online anche i festival cioè si ormai è tutto festival online e a me manca in realtà dopo tanti anni questo discorso di andare a un festival di persona incontrare la gente parlare faccia a faccia con le persone ecco il cinema questo non me lo sta dando praticamente proprio più quindi mi interessa ecco ristabilire il contatto con non solo con la gente ma sai chi viene a vedere una tua performance è perché è davvero interessata a venire a vedere quello che stai facendo mentre invece una distribuzione a un video eccetera o il film online ti pone anche di fronte a un pubblico molto casuale che non gliene frega niente quello che tu fai quindi sai c'è anche uno scambio di energie che è diverso ti trovi molti hater facili molte tigri da tastiera molta gente che ti dice non sai fare un cazzo che magari è anche vero per carità però sai siamo sempre lì a teatro sei tu che stai venendo a vedermi perché forse pensi che so fare qualcosa mentre invece se incontri il mio film online te lo vedi e pensi che non so fare niente ma tanto a te non ti è costato quindi siamo sempre lì c'è un approccio differente e io mi voglio riconcentrare sul costruttivo io spero che tu faccia uno spettacolo a Milano a questo punto prima o poi così così vengo insomma può essere tutto può essere a Roma ci siamo a Roma c'è stato eh lo so sei stato a Roma infatti per quello la speranza è quella la speranza è quella dai e ci tenevo anche a dire una cosa che vado lungo che non ho detto questo è un ambiente che logora un po' no? ce lo siamo detto l'hai anche ribadito tu c'è tanta però in realtà tu negli anni hai fatto tanti progetti collettivi e hai aiutato tante persone a fare a iniziare diciamo la loro carriera di che poi uno l'abbia intrapresa o no però intanto hai dato la possibilità alle persone di esprimersi affiancati da uno o più professionisti quindi ci tengo anche a ribadire a sottolineare questa cosa perché è vero che poi si creano degli attriti un rapporto difficile con una community che io non chiamerei neanche community perché è veramente una cosa tossica però in realtà in realtà non sei cioè tu per quello che io ho percepito per quello che ti conosco non sei assolutamente una persona individualista perché hai nel tuo curriculum dei film collettivi con persone anche se non sbaglio che non avevano mai fatto niente che non avevo mai fatto nulla e quasi tutti quelli che lavorano nei miei film specialmente quelli recenti sono tutti o attori o direttori della fotografia o truccatori tutti alla primo film in assoluto quindi diciamo che ho dato sicuramente un apporto ma semplicemente perché faccio con gli altri quello che non è capitato a me cioè quando io all'inizio cercavo un ascolto uno sbocco perché sapevo di avere una passione e sapevo di poter fare delle cose in realtà mi hanno dato retta veramente in pochi tu pensa solo appunto in quei cinque anni di Porta in Faccia in Italia con lo script di House of Flash Mannequins che tutte quelle Porta in Faccia erano tutte da ambienti e da amici e da ambienti di persone conosciute quindi sai non erano estranei io fino a oggi devo ringraziare solo gli estranei che come quando sono andato in Kosovo io ho lavorato tre anni in Kosovo con gente estranea che mi ha permesso di fare addirittura serie tv cioè senza raccomandazioni senza senza parlare la stessa lingua senza cioè semplicemente basandosi su quello che uno può fare no? quindi su questo si ho riunito quasi 50 registi indipendenti con i progetti corali che sono più di 6-7 e di quei 50 ne sento tuttora un 3-4 gli altri sì gli altri hanno preso quello che potevano prendere e magari sai però potevano prendere di più bisogna a volte essere anche furbi nel sapere essere egoisti sai certo niente Domiziano io ti ringrazio volevo farti una domanda sui recensori e le recensioni ma ho paura che mi si ritorca contro perché perché tu poi inizierai a dire delle cose e mi riconoscerò perché ogni volta che tu dici delle robe sulle recensioni interessanti che condivido però a volte leggo e dico cavolo ma questo sono io perché ce l'ha con me no non è vero no perché so che se sei qua è perché comunque in qualche maniera mi salvo no ma io non ce l'ho allora io quando faccio determinate critiche è perché magari leggo delle cose non è perché mi sveglio la mattina che mi gira e allora mi e tra l'altro le cose che leggo non sono assolutamente riferite a me perché non è che sul web si parla di me cioè a me non mi caga nessuno quindi che la gente stia tranquilla quando io magari leggo una critica appunto al film di Guadagnino magari leggo una critica al film di Gaspar Noè cioè addirittura io ho letto un regista su Facebook regista aspirante che diceva che Gaspar Noè è sopravvalutato allora sai allora un po' ti irrita che comunque la qualunque che non ha nessuna competenza arrivi al punto di spalare merda su professionisti di queste quali ma sai puoi dire l'opinione è sacrosanta per tutti tutti abbiamo le nostre opinioni però a maggior ragione se uno è un presunto critico o sei un regista che dovresti sapere quanto è difficile fare un film no e soprattutto se sei un regista che magari fa film di merda come quello della persona in questione e dice che Gaspar Noè è sopravvalutato ma tu non sapresti fare tre minuti e mezzo di un film di Gaspar Noè non sapresti gestire manco un operatore una squadra no addirittura a Michael Bay Michael Bay non sa fare un cazzo ragazzi ma avete idea di che cos'è un set di Michael Bay milioni di doll la risposta e di persone solo solo le unità che ci stanno lì in giro quando è venuto Woody Allen a Roma a fare From Rome to Love che era venuto per girare alcune scene con una truppa ridotta ci stavano 300 roulotte capito cioè voglio dire immaginati da regista che sei il direttore dell'orchestra di tutto questo certo scusami funziona il microfono non si 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 ti sento io ti sento però ti sentivo anche sì scusami mio figlio che mi deve dire i suoi progressi a FIFA cioè fa un po' te perché no 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 va bene magari un giorno pensavo è arrivato qua e pensavo sta andando a fuoco la casa no il mio giocatore è progredito perdonami Domiziano questo è il bello di Twitch pensa se un giorno invece tuo figlio viene e ti interrompe perché dice ah ma stai parlando con Domiziano ho visto i suoi film mi piacciono beh comunque i film ci sono adesso aspettiamo l'età per poterli far vedere li vedremo insieme allegramente li vediamo a Natale li vediamo il giorno di Natale insieme tra l'altro mi dipingete in un certo modo però ripeto Museum of Wonders è un film guardabilissimo da tutti Two Left Arms è un film guardabilissimo da tutti ma certo magari Dark Waves è un film che possono vedere proprio tutti che non c'è il nudo non c'è il sangue cioè ci sono tanti film no ma poi tu lo sai lo sai che io poi appunto anche quando ho dovuto descriverti perché dovevo promuovere tra virgolette questa live per semplicità chiaramente anche per fare un po' di clamore dico ah il regista horror estremo ma la cosa che mi mette in difficoltà quando ti devo citare è proprio ridurre tutto a una singola cosa perché come il pene esatto perché quello che mette gli uomini nudi nei film esatto perché comunque come disse un mio collega ah tanto quello fa solo i film dove ci sono gli uomini nudi se è tutto quello che hai capito del film evidentemente se vi piacciono gli uomini nudi comprate vedete i film di Tomiziano sicuramente troverete peni per i vostri denti però non sono in tutti purtroppo quindi pure lì è un'inesattezza perché bisogna vedere dove ci sono dove si vanno a trovare allora io adesso ti diciamo saluto ti ringrazio e poi rimango un attimino con la mia chat che non ho praticamente cagato cosa che non faccio però di solito non lo faccio però oggi eri proprio un flusso continuo piacevole interessante da ascoltare quindi ho cercato di interromperti il meno possibile quindi rimango ti saluto rimango un attimo con loro poi farò un ride per chiudere ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata qualcuno in chat ha già scritto grazie bella chiacchierata bella intervista Domiziano sei già nei cuori per cui non ti hanno non ti hanno preso come un mostro anzi meno male ti ringrazio a tutti nella chat anche da parte mia cominciamo a farsi Twitch a venire a trovarmi ogni tanto in chat se si rompe le balle ma non credo perché lui ha una vita sicuramente più interessante della mia se no io se se avessi una bella vita non avrei aperto Twitch questo è poco ma sicuro ti ringrazio tantissimo tienimi aggiornato con i tuoi film che insomma poi ecco magari tornerai se hai voglia se ti è piaciuto stare qua la prossima volta magari il microfono ha acceso sin da subito ti chiedo scusa ancora per la gaffa ma figurati grazie mille Domiziano e alla prossima ciao ciao grazie ciao